benvenuti raga benvenuti nel mio canale era da un po di tempo che volevo aprire un canale e finalmente mi sono deciso e visto che siamo agli inizi del nuovo anno vi faccio tanti auguri di buon anno raga tanti cari auguri a tutti io per voi amici del web sono paolos chiamatemi paolos e voi direte e cosa vuoi che cosa ci fai qua su youtube bene raga ve lo dico subito subito io sono un appassionato di videogames e informatica in passato giocavo soprattutto da pc con giochi per pc ma da un po di tempo a questa parte sto passando tempo con giochi per android per il sistema android e niente ho deciso di aprire questo canale dove vi porterò il mio punto di vista su certi giochi vedendo nei vari aspetti dando anche dei consigli e quant'altro inizialmente porterò giochi per android poi magari in futuro vediamo penso anche di portare qualcosa per pc non so vediamo raga vediamo chi vivrà vedrà raga chi vivrà vedrà bene detto questo direi di passare subito col primo gioco che come potete vedere parliamo di social royale un gioco simile a clasher royale non sono molti di voi lo conosceranno è un clasher royale col gioco dove due giocatori si affrontavano a colpi di mazzate e distruggendo le torri avversari qui invece ragazzi si gioca dando calci a un pallone giocando a calcio praticamente raga bene passiamo avviamo subito subito il gioco dai avviamo il gioco via 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 spero solo che non si blocca tutto perché a volte capita che si blocca tutto speriamo di no a meno nel primo video magari in futuro magari succede che si blocca va bene nel primo video speriamo di no bene una cosa che vi dico è che in questi giochi che vi porto sono già ad un livello abbastanza avanzato perché ci giocavo in passato poi li ho disinstallati e poi adesso li sto riprendendo infatti sono a un livello già abbastanza avanzato però non vi preoccupate perché tanto vi darò dei consigli e delle info utili anche per chi inizia da poco bene queste siamo qui nella prima schermata di gioco qui abbiamo le ricompense quotidiane quindi ogni giorno se accedete vi da potete prendere delle cose gratuite a questo è un gioco free to play raga quindi non io finora non ho scioppato nulla in questo gioco perciò quindi mi a meno fino ad ora mi permette di avanzare proprio senza acquistare nulla fino ad oggi non ho acquistato nulla e quindi va benissimo va benissimo così allora questa è la prima schermata qua vediamo e qui abbiamo la cassaforte gratuita prendiamo la cassaforte gratuita a questo è un gioco raga dove ci sono dei personaggi tipo delle carte ogni personaggio ha delle abilità poi dopo vedremo qui appunto ci sono le gemme e le monete le queste qua sono le gemme sono importantissime raga sono importantissime accumulatele queste sono le varie carte qua che ci sono nel gioco vedete qui si personaggi che ci sono pure poi con i personaggi potete fare una squadra una squadra per contro gli avversari a qui vi dà la possibilità che cliccando qui sul tasto cambia potete vedere la pubblicità e dopo alla fine del video pubblicitario potete cambiare una carta cioè al posto che ne so di di una carta di queste ve ne da casualmente a random o un'altra se se volete provare a magari vi capita poi una carta che vi interessa di più magari no per adesso chiudiamo tanto a me non interessa per adesso cambiare nulla bene questa è la prima schermata quindi andiamo verso destra vediamo le altre schermate qui abbiamo questa qui è la schermata si qui degli amici io sono connesso con google play per adesso quindi potete collegarvi pure con facebook se volete poi qui potete creare un clan che costa 100 gemme io all'inizio vi consiglio di accumulare le gemme e al limite entrate in altri clan se volete neanche spendere gemme per creare subito clan all'inizio meglio accumularle le gemme qui i club potete cercare qui i club potete cercare le varie squadre già create da altri poi andiamo sulla testa questa è la schermata qua delle classifiche vabbè qui abbiamo la classifica globale mamma mia 10.100 punti la classifica locale che quella italiana perché io ho fatto il profilo italiano quindi questi sono i migliori giocatori italiani ok quindi torniamo poi andiamo verso sinistra qui abbiamo la schermata della squadra questa è la schermata della squadra allora come potete vedere come potete vedere ci sono dei personaggi ogni personaggio ha in alto a sinistra questi numeri che vedete 7 4 5 3 sono il costo di energia per giocare le rispettive carte perché ogni carta per poterla giocare beh poi dopo vi faccio vedere nel gioco che è più semplice neanche a perdere tempo così a spiegare che poi dopo vi faccio vedere queste potete fare comunque 3 squadre cioè avete 3 formazioni che potete fare io utilizzo sempre questa qua la prima formazione nella seconda ho cambiato solo una carta ma beh questa qui che è la terza che non l'ho mai modificata questa formazione è la formazione che avevo quando ho iniziato il gioco non l'ho cambiata perché tanto utilizzo solo la prima o al limite la seconda la terza non l'ho mai cambiata quindi forse per chi inizia forse è la stessa formazione che di quando ho iniziato io non so all'inizio dovreste avere all'incirca queste carte qui vi consiglio raga come questo ad esempio questa carta è importantissima questa carta si chiama keep è una carta molto 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 utile perché vi permette di fare di vincere la partita questa ad esempio vedete l'abilità l'abilità del pallonetto cioè ti fa il pallonetto e la palla va in porta e quindi vi permette di vincere in molte occasioni anche di vincere la partita questa carta avanzatela vi consiglio di lasciarla nella formazione perché è molto molto forte e poi e niente poi qui ci sono tante carte poi vedete voi le provate vedete quale quale vi piacciono di più quelle che sono più utili e vedete poi voi quindi adesso io metto la prima formazione ok poi c'è lo schieramento lo schieramento e la formazione poi a mano a mano che giocate poi avrete modo di prendere le altre formazioni io uso questa per adesso va bene niente qui vabbè altro da dire qua non c'è andiamo nell'ultima schermata verso sinistra questa è la schermata dello shop quindi degli acquisti io fino adesso non ho costato nulla però tra l'altro in questo gioco i prezzi sono abbastanza altini cioè non sono neanche tanto bassi però io fino ad oggi non ho costato nulla quindi si può giocare tranquillamente senza shoppare nulla avanzando poi si può avanzare anche livelli più alti senza shoppare nulla almeno fino ad oggi è così poi è questa è la parte di questa schermata che ci interessa di più qui come potete vedere potete attraverso un video pubblicitario potete prendere la carta che vi da a disposizione poi tramite le monete le gemme potete acquistare qui le altre carte se ci sono quelle che vi interessano state attenti non sprecate qui le gemme e anche le monete vedete poi qui potete anche prendere come potete vedere la formazione qui c'è della formazione barriera però non mi interessa quindi niente una volta per adesso neanche il video questo qua gratis mi interessa perché tanto non la uso più come carta se invece agli inizi invece mi ricordo che forse qualche volta l'ho usato ma comunque vabbè e poi potete se cliccate sul tasto aggiorna ora gratis sul tasto qui giallo dopo che avete preso le cose che vi interessano qui potete cambiare tutte le carte cioè vi permette di cambiare di nuovo tutte le carte che vi da a disposizione adesso io clicco sul tasto vi facciamo partire video pubblicitario e vediamo così le carte che ci da nuove le carte nuove che ci da ora io stacco sul video e poi riprendo alla fine del video pubblicitario ok vai eccoci qua raga come potete vedere questa è la schermata finale del video pubblicitario alla fine del video pubblicitario dovete vedere la x che compare in alto a destra o a volte anche a sinistra dello schermo quindi assicuratevi che la pubblicità sia terminata poi premete sulla x nell'angolo premiamo sulla x e quindi adesso ci ha dato delle carte nuove si la prima carta ce l'ha lasciata quella la stessa non l'ha cambiata quella gratis che possiamo prendere tramite video pubblicitario vabbè quella l'ha lasciato uguale vabbè però ci ha cambiato qui ci ha dato hammer nancy cartellino giallo oppure la barriera ha lasciato uguale la formazione che vabbè e quindi niente vediamo hammer no ma per adesso non lo prendo va sto cercando è un giocatore che un che utilizzo hammer però ce l'ho già a livello 8 e già lo posso sviluppare no per adesso sto raccogliendo le monete quindi poi non mi se neanche sarebbero monete sprecate per adesso non non le spendo le sto accumulando va bene e poi niente vediamo cos'altra cosa altra carta c'era che ci aveva dato si se qui come ecco si era un attimo forse bloccato allora niente hammer no questo non ci interessa non ci interessa non ci interessa la formazione neanche va bene e niente non c'è una volta che avete cambiato gratis tutte le carte qui che vi da no non fate più a giorno ora che vi costa 5 gemme no aspettate poi ogni tra otto ore in questo caso tra otto ore e 47 minuti qui in alto ve lo dice questa offerta finisce tra otto ore a non aspetta non è questa è qui sotto che è scritto noi carte disponibili 23 ore 50 minuti ecco tra 23 ore 50 minuti come c'è scritto qui in basso vi darà delle carte nuove vi darà delle carte nuove e poi se c'è quello che vi interessa lo prendete bene quindi occhio alle gemme alle monete state attenti se decidete di spenderle va bene questa era la schermata dello shop torniamo alla schermata principale e facciamo aspettiamo vediamo se la forma che la formazione è la prima ok e facciamo qualche partita dai 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 facciamo qualche partita speriamo bene vediamo di vincere se ci va bene vediamo vediamo cos'è un un iraniano questo qua contro contro un iraniano stiamo giocando fosse mi sembra vediamo allora come potete vedere a devo attaccare io allora come potete vedere qui ogni carta c'ha un costo potete vedere io decido di giocare questa carta che quindi vi toglie il costo di energia però mentre dobbiamo ok vabbè sia parlare di giocare nello stesso tempo non è non sono abituato a farlo ma vediamo comunque ogni personaggio c'ha un costo di energia e quindi dovete stare attenti a fare una squadra che non ha personaggi che costano troppa energia ecco poi come potete vedere vabbè ora poi dopo ve lo dico innanzitutto vediamo che possiamo fare qui facciamo così tiriamola tiriamola di lato ecco 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 nel turno dell'avversario voi potete spostare i vostri giocatori li potete spostare e questa è una cosa importante adesso facciamo così gioco questa carta qua così gioco questo personaggio e vediamo ecco poi dovete cercare di posizionarvi bene i giocatori in campo come vedete ora il turno dell'avversario io posso spostare i miei personaggi per metterli meglio in campo l'avversario si è fatto un autogol ebbe capita capita si colpisce male la palla e abbiamo segnato meglio così per noi raga meglio così per noi ci dispiace per il nostro amico iraniano però adesso qui un po sto rischiando attenzione qui potrebbe segnare l'avversario se insomma ecco perché con i rimpalli della palla questa è una posizione ecco abbiamo chip abbiamo kip il nostro amico kip ci può far vincere la partita come vi dicevo se facciamo se la colpiamo b e bene e facciamo il pallonetto essi essi come vedere kip è una carta importantissima raga kip è una carta importantissima con il pallonetto imprendibile e perciò grazie anche al nostro avversario che ci ha fatto un regalo dell'autogol capita capita spesso ecco facciamo abbiamo preso qui sblocchiamo intanto dopo tre ore come potete vedere sono le casse forti le sbloccate dopo tre ore non spendete mai le gemme per sbloccarle raga mai spendere gemme per queste cose aspettate tre ore il tempo e poi si sblocca facciamo un'altra partita facciamo un'altra partita dai il nostro amico iraniano è stato un po sfortunato con l'autogol e vabbè capita anche a me è capitato spesso un altro amico iraniano tutti iraniani oggi qui sono ma non è lo stesso di prima non mi ricordo il nome qual era quello di prima ma vabbè mi sembra che un altro vabbè di nuovo noi attacchiamo per prima va bene allora giochiamo questo personaggio che costava 7 di energia quindi costava un bel po è un personaggio grosso e ci costa molta energia come potete vedere sono tre di energia quindi ogni ogni turno l'energia poi ve la ridà però più ne spendete poi più più ci vuole di nuovo per per ricaricarsi adesso vediamo cosa fare cosa facciamo adesso adesso direi facciamo così gioco questo qua però prendo la palla con questo personaggio cerco di metterla laterale in modo che è più difficile per l'avversario andare a segno assegnarli come potete vedere però invece mi ha segnato questo è stato bravo ha fatto rimpallare la palla sui lati perché potete segnare anche facendo rimpallare la palla sui lati vediamo cosa fare vediamo 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 cerco di spostare i miei giocatori in modo che mi sembra meglio meno male che quel giocatore ci ha salvato adesso che vedete non possiamo usare kip perché costa 9 di energia ne ho 8 altrimenti usavo kip e facevamo il pallonetto e potevamo segnare mannaggia ho colpito il mio giocatore comunque raga ogni turno non dovete per forza colpire la pallina a quando avete il vostro turno poi dopo vi faccio vedere magari qui dovremmo segnare qui dovremmo segnare segniamo sì e vai giocatore però non ha mosso i suoi giocatori perché forse mi poteva mi poteva impedire di di in modo invece non si sono mossi comunque significa che non li ha spostati neanche uno vabbè come adesso spostiamo i nostri giocatori qui in modo e lui si è fermato non ha colpito non ha colpito ho perso la connessione e in questo caso noi giochiamo kip giochiamo kip facciamo il pallonetto annaggia quel giocatore che è grosso ci ha impedito il pallonetto e adesso lui ci sta facendo il pallonetto e vabbè e vabbè stavolta ho utilizzato lui kip come potete vedere quel giocatore importantissimo importantissimo che al momento giusto fa gol facilmente quindi questa l'abbiamo persa e vabbè qui ci dice questo di comprare no no non compro nulla e andiamo avanti facciamo un'altra partita vai vediamo ora una l'abbiamo vinta una l'abbiamo persa con due iraniani vediamo adesso un altro italiano vediamo ah no questa volta un tedesco un tedesco vediamo vediamo contro la germania allora quello che volevo dire vabbè no cioè che a ogni vostro turno non dovete per forza colpire la palla potete anche non colpirla e posizionarvi solo meglio i giocatori in questo caso però un pochino ecco adesso insomma siamo messo in una posizione non troppo buona spostiamo i giocatori in modo madonna mia madonna mia ci ha preso proprio di striscio ci ha preso proprio di striscio ci ha preso di striscio ho giocato quella lì però voglio colpire con questo giocatore ma annaggia è scaduto il tempo perché bisogna anche cercare di non far scadere il tempo in questo caso io mente non è tanto facile parlare e giocare il tempo stesso perché non sono abituato ma va bene ecco questo forse mi sa che ora ci segna meno male mamma mia raga mamma mia mamma mia vediamo se adesso ho cercato di colpire in fretta per vedere ma lui si è spostato come avete potuto vedere si è spostato e io ho colpito male poi non mi è scivolato un po il dito qua mannaggia e si ci ha segnato ci ha segnato va bene ma ancora nulla è detto raga nulla è detto e cioè i giocatori storditi come potete vedere i giocatori con le stellette sono storditi quindi vediamo di ora gioco questa gioco questa e questa posizione insomma non è benissimo come potete vedere se avete i giocatori in attacco spostateli più verso giù così almeno li avvicinate qui cosa possiamo fare qui possiamo fare possiamo fare così ora tento tramite rimbalzo eh no si e niente mi sa che fosse ci segna qua qui fosse se e infatti lo sapevo io che meno male meno male mamma mia raga l'avversario ci sta ci sta regalando ora facciamo così ora la colpiamo piano ecco volevo volevo colpire un bagarre un pochino più forte però eh va bene a volte scivola il dito e anche madonna mia madonna mia raga madonna mia no sì ma volevo metterla più in calcio d'angolo volevo tirarla eh sì e vabbè ho fatto diversi sbagli ho fatto diversi sbagli l'ho colpita male e il tedesco ci ha sconfitto vabbè facciamo l'ultima partita dai l'ultima partita di oggi facciamo l'ultima partita per questo mio primo video sul mio canale youtube vediamo questa partita come va allora difende difendiamo cerchiamo di spostare come meglio crediamo ecco questo l'ha messo subito laterale ora io faccio così intanto metto questo gioco questo giocatore qui così copre la porta il più grosso e copre bene la porta poi sposto questo giocatore più giù così come potete vedere non ho colpito la palla però posso spostare il giocatore in modo da metterlo meglio per poi colpirlo alla volta successiva in modo migliore qui cosa possiamo fare qui posso facciamo così facciamo così mi ha impedito di colpire la palla voleva tramite rimbalzo segnare non gli è riuscito però ora tentiamo va tentiamo il tutto ma nonna mia se era più forte raga se era più forte segnavo però io c'ho la porta scoperta adesso c'ho la porta scoperta vai che adesso possiamo segnare raga possiamo segnare ora gioco ng questo giocatore è ng e vi permette mira bene c'ha una mira bene adesso in questo caso si vede molto però tramite rimbalzo vediamo se e no l'ho colpita male l'ho presa troppo troppo stretta l'ho presa troppo stretta l'avversario l'avversario l'ha presa male l'avversario l'ha presa male l'avversario l'ha presa male io adesso però direi di metterci meglio ecco mettiamola di lato mettiamola di lato mettiamola di lato dov'è la palla dove la palla ah ma qui non l'avevo vista per un attimo facciamo così mo tiriamo ecco mettiamola laggiù avevo condizione di tirarla verso di là come potete vedere ad un certo punto l'energia è extra cioè ad un certo punto dopo un dotto di turni avete 5 avete sempre molta energia qui cosa giochiamo giochiamo kip giochiamo kip giochiamo giochiamo kip facciamo il pallonetto non ci pensiamo due volte e segniamo e segniamo grazie a kip grazie al mitico kip e al mitico kip allora qui 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 cosa facciamo cosa facciamo facciamo così gioco questo giocatore qui me lo posiziono meglio ecco dobbiamo stare attenti però ai rimba ecco facciamo adesso così cerco di tirarla nell'angolo in alto a destra no mazzo ho sbagliato ho perso anche forse un po' troppo tempo ma madonna mia la palla è rimbalzata sul mio giocatore e poi è entrata e vabbè e vabbè e vabbè ah al primo tiro non potete segnare al primo tiro anche se segnate ve lo annulla perché ha giocato kip però l'ha giocato male l'ha giocato male ha giocato male a kip e non l'ha colpita bene adesso proviamo dai vediamo se tramite rimbalzo madonna mia madonna mia c'era il suo giocatore che ha impedito che la palla entrava altrimenti era direzionata bene era direzionata bene la palla poi raga cercate di far rientrare come potete vedere adesso la palla è messa lì per noi non è un pericolo e allora cerchiamo di far rientrare un po' i giocatori nostri così ecco se il giocatore va troppo vicino alla porta poi automaticamente lo sposta in angolo lo dovevo colpire più piano e vabbè però comunque adesso i nostri giocatori sono tutti posizionati meglio quindi va bene così ora sviluppo questo lo metto un pochino più in qua piano 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 ecco così in modo da essere davanti alla porta ed è meglio così copre la porta la nostra porta lui si sta posizionando i giocatori la io adesso invece ho intenzione eh di complicare un po' le cose gli ho messo il mio giocatore qui adesso uh 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 madonna mia vedo già un bel keep pronto un bel keep pronto facciamo proviamo con keep o senza keep proviamo voglio provare senza keep va voglio segnare per una volta vediamo qui dovrebbe essere madonna mia potevo segnare con keep facilmente ma ho voluto provare ho voluto provare forse mi sa che la perdiamo uh no meno male però adesso lo giochiamo adesso keep no guardate io sono uno che vuole rischiare a volte di uh me l'ha parato me l'ha parato con keep potevo segnare subito ma sto cercando di segnare vabbè ma adesso lo uso keep mi sa si adesso usiamolo va se no la partita non la vinciamo volevo segnare con un altro giocatore e si e si e va bene e il mitico keep raga il mitico keep non perdona è un giocatore molto fuori molto utile molto 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 utile c'ha l'abilità che molto molto forte il pallonetto non lo prende nessuno cioè a volte al limite della porta è capitato che lo parano però segna quasi sempre quasi sempre segna keep quindi basta che direzionate bene allora premio no questa togliamo ah come potete vedere a volte a volte quando vincete la partita e quindi ogni volta che vincete vi da una cassaforte vi da la possibilità tramite un video pubblicitario gratis sempre di trasformare la cassaforte da normale a questa dorata e significa che vi da delle monete in più e anche qualche carta in più quindi anche qualche personaggio in più bene ma che facciamo lo prendiamo vabbè dai vediamo questo video pubblicitario bene raga come potete vedere anche questo video pubblicitario è terminato clicchiamo sulla x in alto a destra e lui ci da la cassa dorata ci da la cassa dorata che servono anche più ore per sbloccarla se ci clicchiamo infatti ci dice è in corso un altro sbloccamento perchè abbiamo l'altra cassa normale sblocco se vogliamo sbloccare questa dobbiamo spendere 48 gemme no 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 per carità le gemme mai spenderle per queste cose e quindi aspettiamo poi dopo che sblocchiamo l'altra cassa possiamo sbloccare questa dorata bene raga questo è il mio primo video se vi è piaciuto cliccate mi piace iscrivetevi al canale se vi va per chi vuole poi ci vediamo al prossimo video che farò a breve e quindi per oggi è tutto raga ci vediamo al mio prossimo video per chi vorrà ciao ciao